Decido di premere quel pulsante a forma di microfono. Un secondo. Contagio. Come attraversato da un impulso elettrico. Abbandono la pressione. Un po' spaventato e il contempo eccitato. Per me è troppo tardi. Inizio ad inviare a tutti i miei amici i saluti. Frasi a caso, aforismi, insomma uno tsunami di cazzate. Io amo i messaggi vocali, sono diventati una droga. Mando messaggi vocali mentre mangio, mentre mi alleno in palestra, e persino mentre faccio zigzogi. Siete secondi e due, record al mondo! Grazie a tutti! Sono così assue fatto dai messaggi vocali che la mia mente ricodifica in chiave 2.0 apparecchiature antiquate come il campanello. Uè nonna, come stai? Bella cacciottona fumicata. Questo weekend viene a pranzo da noi? Oh, togli quel dito dal campanello. Cretino! A mali estremi, messaggi vocali come rimedi. Serata nerd. Io e Jacopo stiamo completando tutti i livelli di code in modalità veteran. Quando? Ciao Barboni, vi ricordo che oggi c'è la mia splendida festa di compleanno e sì, siete invitati anche voi. Vestitevi decentemente. Grazie. Piuttosto che andare a quella festa piena di spocchiosi figli di papà, preferisco stare a casa a flagellarmi i coglioni con una mazza chiodata. Dan, ho un'idea. Sapete cosa si dice delle bionde? Che sono stupide come delle capre tibetane. Quindi di riflesso lo stesso stereotipo dovrebbe essere valido anche per i ragazzi biondi. Invece no. Jacopo a volte è un po' goffo impacciato. E tu, fermo, fermo, scendi dalla macchina. Ok, ok. Ok. Ma in verità è un piccolo genio. Prendetelo, aggiungetegli i capelli di Axel Rose e otterrete MacGyver. Dan, non fare domande e prendi il tuo iPhone e metti l'ultimo pezzo di Cadminares. Perché? Ti ho detto di non fare domande. Ok. Con il mio registriamo un messaggio vocale. Tu fai quello che sai fare meglio. Spara cazzate. Merry Grande! Ci piacerebbe tantissimo venire alla tua festa di compleanno. Ma siamo già alla festa dei Fedez e suona Cadminares. Ci sentiamo. Buona serata. Papà! Abbiamo appena tirato il pacco più grande della storia. Babbo Natale ci fa una pippa. Prendi un telefono e fai partire un pezzo musicale o un suono. Prendi un altro e registra un messaggio vocale. Boom! Hai appena creato un mondo. L'abbiamo chiamata modalità Megazord. Ehi, cazzo sono le otto! Svegliati! Modalità Megazord! Modalità Megazord. Traffico automobilistico. Attivato. Sì capo buongiorno salve c'è stato un incidente siamo a ritardo di 15 minuti ma tra poco arriviamo. Salve arrivederci buona giornata. Fuoviti cazzo! Arrivo! Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E' un numero indescrivibile di cazzate che puoi combinare. Tendo! La mia ragazza vuole presentarmi i suoi stasera! Cosa? Ma siete insieme da 72 ore! Non so come facciamo. Modalità Megazord! Modalità Megazord! Musica palestra? Attivata! Ok! Vai! Ciao amore! Sono in palestra a fare un corso di crossfit quindi non riesco a passare. Sai vuoi avere un fisico perfetto per quando mi presenterai ai tuoi genitori. Punto farmi sia tua madre che tua sorella. Ma sei scemo? Meno male che non ho alzato il codice! Aaaaaaah! Non lo facciamo! Spesso! Spegni il router! Spegni il router! Non basta disattivare il web! No 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 no! Perché se no poi il messaggio viene dietro lo stesso! Non riesco a spegnere! Eh Dan, ma non bastava metterlo in modalità in aereo e poi cancellare il messaggio? Cazzo! Siamo biologicamente programmati per riprodurci e per non far estinguere la nostra specie. Tutta quella meccanica chiamata amore scaturisce da un semplice istinto, la sopravvivenza. Il nostro orologio biologico è perennemente attivo e se qualcuno di noi finge di non sentirlo può star certo che prima o poi la natura gli ricorderà che ore sono. Ehi Dan, da quando è che sei single? J, da quando è che non ti fai i cazzi tuoi? Dai, ci sarebbe mia sorella. Non esco con tua sorella. Dai Dan, è una brava ragazza! Avrà preso solo una dozzina di cazzi, cosa vuoi che sia? Non è quello il problema. Non esco con tua sorella perché ogni volta che la guardo mi sembra di vedere te con una parrucca in testa. Se non l'hai mai vista. Me la immagino. Allora Dan, o ti fai mia sorella oppure farei la donna nei video per sempre. Dai, ma ci pensi? Verrai a pranzo con me la domenica e persino a Natale! Ma non sei eccitato dall'idea? No, mi fa schifo! Nonostante i millenni di evoluzione siamo ancora un branco di scimmie. Facciamo tutti le stesse cose, pensiamo le stesse cose, siamo gli uni i bruttisosi degli altri. Io voglio essere diverso, voglio prendere le mie decisioni con la mia fottutissima testa pelosa. Sbaglierò, ma almeno avrò imparato qualcosa. Conoscerò la ragazza dei miei sogni, senza che nessuno me la raccomandi attraverso un post-it. Ciao Dan, ci vediamo al pub stasera? Beviamo una birra, parliamo un po'. Ah, c'è anche mia sorella. E niente, poi sono andato... Ciao Jay! Grande! Mi piacerebbe un casino, ma sono a vedere Grizzly Musical! Una figata pazzesca! Dan, non puoi usare la modalità Megazord con me, l'ho inventata io! Cazzo! Smetti di cercare e troverai. Perdi il tuo CD preferito, lo cerchi, ma non lo trovi. Poi un giorno smetti di cercare e puff! Ecco che magicamente ricompare. Così ho conosciuto Laura. Ho smesso di cercare l'amore e mi è praticamente saltato in braccio. Oltretutto Jacopo ha smesso di stressarmi con sua sorella. Facchiea! Ogni mattino mi sveglio con il messaggio vocale del buongiorno. Ha una voce così dolce. La adoro. Io rispondo mixando il tutto con un sacco di cazzate. Ma lei ride e io sono felice. Cazzo se mi piace. VEGNIA! Una sera siamo entrambi ubriachi e raggiungo l'apice dell'happiness quando ricevo un suo messaggio vocale. Daniel, ti amo! Forse di persona sarebbe stato più carino, ma chi se ne fotte? Una ragazza sulla faccia della terra mi ama. Prima però devo avere l'approvazione del mio miglior amico e organizzo un cinese per la sera successiva. Appuntamento alle otto. Arrivo, tiro di me. Carico come una mina, mano nella mano alla mia splendida ragazza. È il momento più bello della mia vita. Jacopo, lei è Laura. Lo so, è mia sorella. Odio la mia vita. Ciao ragazzi, siamo in Pantellas e quest'ora io ho dei messaggi vocali. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e condividete su Facebook. Noi vi ringraziamo tantissimo per aver guardato questo video e lasciate un commento qua sotto facendoci sapere se anche voi siete i drogati malatissimi di messaggi vocali. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e... Un saluto Pantelliano a tutti! È iniziato tutto a causa di quella fottutissima catena chiamata evoluzione che ha portato le scimmie a trasformarsi in umanoidi e il mio indistruttibile Nokia 3310 in uno smartphone di pasta sfoglia.